Oggi è mercoledì 11 marzo 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 11 marzo 1818. Mary Shelley pubblica il romanzo che aveva iniziato a scrivere due anni prima, quando aveva 19 anni. Conosciuta come curatrice delle raccolte di poesie del marito Percy B. Shelley, poeta romantico britannico, Mary diverrà poi famosa per quel suo romanzo dal titolo Frankenstein o il moderno Prometeo. L'idea le viene dopo un incubo che l'assale durante un'estate passata nei pressi di Ginevra, in Svizzera, dopo che nella serata precedente con il marito avevano avuto un colloquio con altre persone sul galvanesimo e la possibilità di ricomporre e ridare vita alle parti di un essere umano deceduto. Il romanzo, divenuto un classico molto noto della letteratura, narra dell'esperimento del dottor Victor Frankenstein, che recuperando dei corpi da un cimitero realizza una creatura a cui dà vita grazie all'elettricità. Ma la creatura è così deforme e sgraziata che lo stesso suo creatore ne prova disgusto e l'abbandona. La creatura si vendica uccidendo le persone più vicine al suo creatore, che la insegue per vendicarsi a sua volta fino al polo nord, dove muore dopo aver raccontato la sua storia al capitano di una nave. La creatura accorre piangente accanto al corpo esanime del suo creatore e al capitano che l'accusa dell'assassinio di persone innocenti risponde che il suo odio e la sua malvagità sono state condizionate dal disprezzo per le sue sembianze da parte delle persone e soprattutto del suo stesso creatore, che aveva distrutto il corpo della creatura femminile a cui voleva dare vita per dare al mostro la compagna che questo desiderava. Poi il mostro si uccide dandosi fuoco, per evitare che altri dall'esame del suo corpo possano apprendere come dare vita alla materia inanimata. Il romanzo di Mary Shelley vuole essere una lezione morale e forse anche politica su quali azioni possano essere difese come ragionevoli. Quando, dopo la pubblicazione della sua seconda edizione riveduta nel 1831, i critici dell'epoca, che l'accolgono con favore, scoprono che a scrivere il romanzo è stata una donna e per di più di soli 21 anni, c'è chi fra loro commenta l'opera così. Per un uomo era eccellente, ma per una donna è straordinario. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto vuol renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno, per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.